La consigliera regionale Elisa Montemagni fino alla scorsa seduta capogruppo della Lega ha lasciato il suo ruolo in consiglio regionale essendo stata eletta deputata. Al suo posto è entrato Massimiliano Riccardo Baldini, segretario comunale della Lega di Viareggio, il primo dei leghisti non eletti alle regionali del 2020. Le priorità sono in un contesto difficile come l'attuale, come quella che stiamo vivendo sia a livello regionale ma anche nazionale e internazionale. La priorità non può essere che quella dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, del territorio che vivono un momento estremamente duro e chiedono a chi siede nelle istituzioni risposte concrete, con atti concreti e quindi con capacità di rispondere. Risolvere i problemi delle persone. Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza una mozione presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Diego Petrucci che chiedeva la revoca dell'incarico assegnato dalla regione a Oliviero Toscani del contest fotografico La Toscana di Toscani, una campagna promozionale dedicata al turismo femminile in seguito alle parole del noto fotografo su Giorgia Meloni e sugli elettori che hanno votato il suo partito. La mozione ha ricevuto i voti contrari dei consiglieri del Partito Democratico e quelli favorevoli di tutti i gruppi di opposizione e del capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli. Cosa ho provato quando ho capito che Meloni avrebbe vinto? Veramente non sapevo se era Vanna Marchio o la Meloni. Urla, strabuzza gli occhi pitturati di blu, mostra le unghie rosse. Direi che è abbastanza volgare. Gli italiani che l'hanno votata? Quando la maggioranza è cogliona hai una democrazia cogliona. Gli italiani che hanno votato Giorgia Meloni sono deficienti per me. Queste sono le parole con cui Oliviero Toscani ha commentato le elezioni politiche del 25 settembre. Gravi in assoluto, gravi a maggior ragione nel momento in cui Oliviero Toscani è stato incaricato dalla regione toscana di fare una campagna alla Toscana di Toscana all'interno di Benvenute in Toscana per attrarre il pubblico femminile nella nostra regione. Evidentemente le due cose stridano, evidentemente questa cosa è gravissima, per cui oggi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale chiedendo intanto di condannare le gravi esternazioni a livello Toscani e poi di revocargli l'incarico profumatamente pagato per fare questa campagna pubblicitaria. Anche perché ci chiediamo, le donne che Toscani vorrebbero attrarre in Toscana sono tutte, escluso quelle evidentemente che hanno votato Giorgia Meloni, perché se sono, come lui ritiene, deficienti è evidente che la cosa non sta insieme. Allora noi abbiamo chiesto che il Consiglio regionale prendesse una posizione chiara su questo, come hanno fatto i Benetton quando Oliverio Toscani si espresse in maniera orribile sul crollo del Ponte Morandi. Cosa fece? Lo licenziarono. Noi abbiamo chiesto che la regione toscana facesse la stessa cosa, ovvero revocasse l'incarico dato a Oliverio Toscani, perché è una cosa gravissima quello che ha detto, è una cosa ancora più grave perché lo dice contro una donna e contro le donne, è una cosa tre volte grave perché il suo messaggio, la sua campagna dovrebbe proprio attrarre le donne in Toscana. In realtà noi ringraziamo come gruppo di Fratelli d'Italia il voto compatto del centro-destra, ma ringraziamo anche il Movimento 5 Stelle e Italia Viva che hanno votato a favore della nostra mozione. Ci dispiace prendere atto, ma veramente non è una dispiacere strumentale, ci dispiace prendere atto del voto contrario alla revoca dell'incarico da parte del Partito Democratico. La maggioranza si è spaccata ancora una volta, Italia Viva ha votato in maniera obiettiva, il Partito Democratico difende l'indifendibile arrampicandosi sugli specchi, oltretutto il silenzio di tutte le colleghe del PD nel dibattito di oggi ci dispiace e ci lascia amareggiati. Noi abbiamo trovato quell'atto, un atto condizionato da un pregiudizio, che è quello, il pregiudizio nei confronti di Oliviero Toscani, che come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni. Noi tra l'altro a fronte dell'atto abbiamo proposto, proprio per, come dire, sgombrare il campo dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti di Toscani, di separare le due parti, cioè noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di Toscani nei confronti della Presidente Meloni, ci mancherebbe altro. Sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale. Noi eravamo pienamente disponibili, questa proposta è stata rifiutata. Riteniamo che ovviamente su questi temi si debba sempre cercare di trovare il più ampio consenso e soprattutto la più ampia convergenza noi avevamo dato piena disponibilità finché si arrivasse a questo obiettivo. Probabilmente dovrebbe dire un osservatore esterno che la finalità magari dell'atto era un'altra e quindi su questo l'indisponibilità di chi ha presentato l'atto è stata totale. Abbiamo votato a favore di questa mozione perché riteniamo che non ci sia niente di più inaccettabile quando si intende fare la morale o dare l'esempio dei due pesi e delle due misure. Giustamente il Partito Democratico si indigna quando vengono offese dalle esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati. Non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultati o vilipese sono le esponenti donne ma io metto anche uomini di altri partiti politici specialmente se sono rivolti dall'altra parte dell'arco parlamentare ma chiunque essi siano. Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine e della dignità delle persone, donne e uomini, lo ribadisco, debba essere assolutamente trasversale e che la Regione debba dare il buon esempio e non utilizzare come testimonio o comunque sia dare degli incarichi a delle persone che legittimamente come personaggi pubblici esprimono la loro opinione, che però non può essere condivisa e non ci deve essere accostamento come la Regione Toscana. Pensiamo soltanto che il messaggio, il progetto per cui Liviero Toscani è stato incaricato sarebbe quello di dare il benvenuto alle donne che visitano la Toscana. Il benvenuto viene dato da una persona che però non ha nessun problema invece a insultare un esponente politico e dico questo con una visione completamente diversa da quella che ha l'onorevole Meloni ma riconoscendo a tutte le donne, a tutte le persone, a ogni essere umano la dignità di non essere insultato sull'aspetto personale ma di riuscire a partare lo scontro sul livello politico come a noi viene insegnato. Ecco, io credo che la Toscana e soprattutto questa maggioranza da due pesi, due misure debba cominciare a dare il buon esempio anche su questo invece di elargire perle di morale come spesso fa però comportandosi in modo diverso spesso. Io ho votato a favore perché ritengo che sia indecoroso quello che è stato detto e quindi la Regione Toscana deve prendere un provvedimento perché il rispetto nei confronti delle persone, in primis di una donna, deve essere da parte di tutti e soprattutto quando si ha un incarico a livello regionale e questo è molto grave quanto è successo c'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini che sono degli elettori e non possono essere appunto denominati così come sono stati appunto considerati in quella definizione e come tale la mia posizione è stata in coerenza con tutte quelle che abbiamo espresso come Consiglio regionale nel prendere le distanze da queste dichiarazioni è un metodo che deve essere lontano dalla cultura dei principi della Regione Toscana. Oliviero Toscani non ci meraviglia più ormai dopo le sue frasi sul ponte di Genova dove sono stati allucinanti, orribili, orripilanti nei confronti di quella tragedia delle vittime dopo aver essere stato denunciato da un ragazzo e quindi condannato dal tribunale di un ragazzo della Calabrese che voleva semplicemente fare una foto con lui e che gli è stato detto no non faccio una foto con te perché hai la faccia da mafioso oggi, un po' di tempo fa su un'intervista di un giorno a Pecora continua a offendere i politici italiani gli elettori italiani ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista ad usare toni, modi e parole nei confronti di una donna di Giorgia Meloni che è un leader che veramente sono orripilanti la usate nei confronti di Silvio Berlusconi nel tempo le ha ribadite, la usate nei confronti di Giorgia Meloni la usate nei confronti di Enrico Letta la usate nei confronti degli elettori che scelgono di andare a votare in un momento in cui l'affluenza è sempre in calo e noi facciamo uno sforzo dicendo agli elettori andate a votare ecco troviamo un naif che si permette di offendere tutte e tutti andando in televisione credo che abbiano fatto i Benetton hanno fatto bene i Benetton nel 2010 nel 2020 a mandarlo via quando ha usato quelle frasi credo che abbia sbagliato il presidente della regione toscana ad affidare un incarico a una persona che usa quei termini quei modi nei confronti degli elettori nei confronti della politica abbiamo chiesto di revocare quell'incarico che costa 30 mila euro alla regione toscana magari con quei 30 mila euro noi potevamo fare altre cose il Partito Democratico ha scelto di tenere Oliviero Toscani di dare una consulenza a una persona che si permette di offendere le donne gli uomini coloro che fanno politica coloro che vanno a votare noi crediamo che non sia giusto sì, indubbiamente una mozione che ho condiviso soprattutto perché il dottor Toscani non è estraneo ha delle esternazioni assolutamente pesanti e inopportune questa volta queste sue esternazioni non solo si sono connotate in modo estremamente forte nei confronti della leader di Fratelli d'Italia e quindi connotate di un certo sessismo ma ricordiamo anche le affermazioni gravi su quanto è accaduto sul ponte Morandi ecco, noi riteniamo che questa figura non possa essere collegata alla regione toscana né tanto a meno avere incarichi retribuiti si parla di 35 mila euro per una campagna che tra l'altro avrebbe dovuto promuovere le figure femminili ben tornate in Toscana ecco, francamente ci sembra alquanto inopportuno non revocare l'incarico alla luce appunto di dichiarazioni che sono assolutamente pesanti e che certamente non sono condivisibili ma che ci aspettavamo fossero stigmatizzate e condannate anche dalla maggioranza così non è stato ed è stato invece un pessimo segnale anche di sostegno a tutte quelle donne che si impegnano in politica e che quindi insomma ci richiamano un po' al voler dire pari opportunità a parole ma quando poi si passano i fatti ecco, tutto quanto cade nel vuoto a due anni dall'insediamento dell'ufficio di presidenza il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha tracciato il bilancio dell'ultimo anno di consigliatura durante il quale sono stati approvati 46 atti 98 proposte di deliberazione e 127 mozioni Nell'occasione Mazzeo ha annunciato che è in corso un piano di razionalizzazione della spesa anche attraverso l'utilizzo dello smart working chiudendo uno dei palazzi due giorni a settimana e concentrando in quei giorni le attività di smart è infatti stimato un risparmio sui costi delle bollette di 100.000 euro l'anno sono stati due anni complessi anche per noi due anni in cui abbiamo cercato di restare all'altezza degli occhi delle persone dei loro bisogni lo abbiamo cercato di fare tutti insieme come ufficio di presidenza farlo indipendentemente dai nostri schieramenti politici di appartenenza con l'unico obiettivo cercare di rendere questo luogo un luogo aperto in cui i cittadini si sentissero a casa in cui conoscere quello che era il nostro lavoro un lavoro importante le presenze dimostrano anche il lavoro dei colleghi consiglieri quasi il 96% di presenze da remoto o in presenza che danno il segno come dire di una grande attenzione al ruolo che ciascuno di noi è chiamato a svolgere noi in questi due anni abbiamo deciso di investire molto sui giovani quelli che hanno sofferto di più durante questa fase di pandemia penso al bando sulla rigenerazione urbana hanno partecipato quasi il 70% dei comuni della Toscana ognuno con un progetto rivolto alle ragazze e ragazzi i nostri gonfalloni d'argento che sono il massimo riconoscimento sono andati proprio soprattutto a giovani a giovani impegnati a giovani che hanno portato in alto il nome della Toscana nel mondo e oggi noi vogliamo rilanciare la nostra azione tutti insieme nel prossimo ufficio di presidenza in accordo tra tutti i membri dell'ufficio di presidenza darò anche delle deleghe in maniera tale che ognuno possa fare il proprio lavoro meglio possa aiutarmi coadjuvarmi ancora di più in questo lavoro che abbiamo di fronte a noi e vista la situazione complessa che sta vivendo il paese dal punto di vista energetico così come hanno fatto anche altre realtà a partire dal comune di Firenze nella prossima seduta dell'ufficio di presidenza penseremo anche ad una riorganizzazione che prevederà la chiusura del palazzo al numero 18 ogni diciamo il lunedì e il venerdì in maniera tale da dare anche noi il nostro contributo per la riduzione del costo dell'energia che tocca davvero tante famiglie su cui noi sentiamo tutta la responsabilità chi i dipendenti che non lavoreranno in quei due giorni smart working avranno delle postazioni in cui potranno lavorare anche in presenza qui nel palazzo 2 o nel palazzo civico numero 4 insomma è un modo per dare anche noi il nostro contributo in questa situazione ma in questa veste di vicepresidente del consiglio regionale devo dire che noi abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra l'ufficio di presidenza ha guidato dal presidente Mazzeo sta lavorando bene ha fatto degli investimenti importanti per consentire al consiglio di lavorare in maniera migliore di relazionarsi con i territori dobbiamo crescere a mio avviso nella possibilità di incidere con progetti di legge e di iniziativa consigliare cioè i consiglieri i consiglieri regionali devono essere a mio avviso sempre di più consiglieri regionali della Toscana sempre meno dei loro territori dentro le relazioni con i propri territori devono avere la forza di incidere in proposte di iniziative anche autonome al cospetto delle funzioni di governo che sono quelle che competono alla Giunta la nostra funzione di rappresentanza deve crescere con delle autonomie di carattere finanziare e continuare in queste iniziative che vede il consiglio regionale essere al fianco dei giovani toscani sempre di più identità toscana sempre di più partecipazione sempre di più coinvolgimento delle nuove generazioni questo è un obiettivo che a mio avviso in questi due anni abbiamo raggiunto e sempre più dobbiamo lavorare in questa direzione sono stati due anni difficili stiamo ancora a lottare contro questa pandemia soprattutto oggi c'è il problema del rincario dei costi energetici dobbiamo assumerci responsabilmente il nostro compito di rappresentare gli interessi dei toscani ora anche nei confronti del nuovo governo di Roma credo fortemente nell'autonomia e come tale non posso che rivendicare tutto ciò che possa essere di utilità al mio territorio al nostro territorio toscano credo che il tema dell'autonomia del regionalismo differenziato debba essere portato avanti con convinzione dal Consiglio dalla stessa Giunta occorre investire in termini di sostegno alle attività produttive che sono veramente in difficoltà il Consiglio regionale deve essere sempre più aperto al mondo esterno abbiamo fatto tante iniziative dobbiamo continuare a farne proprio per cercare di avere un rapporto diretto con le associazioni con le istituzioni c'è un grande mondo fuori che vediamo purtroppo in difficoltà e noi dobbiamo essere degli strumenti umili e utili per portare avanti gli interessi dei toscani mi sembra mi sembra che la maggioranza Gianni sia fortemente in difficoltà comunque la maggioranza politica con cui Gianni è stato eletto e con cui ha cominciato la legislatura è finita ormai il rapporto tra il Partito Democratico e Italia Viva che si è disintegrato in campagna elettorale è fortemente a rischio ci ho detto due anni difficili chiaramente il tema della sanità che in un Consiglio regionale è sempre centrale lo è stato ancora di più nel periodo della pandemia però il Covid è una buona scusa ma non è una soluzione per i tanti problemi che ci sono in sanità noi pensiamo che la sanità abbia bisogno di riforme strutturali profonde e che non sia sufficiente dire servono più soldi serve un'impostazione differente potenziando i servizi sul territorio potenziando i servizi domiciliari anche quelli diagnostici in maniera tale da decongestionare pronto soccorso ospedali facendo lavorare meglio serve più trasparenza più merito nelle scelte che vengono fatte in sanità il duplicarsi il triplicarsi il quadruplicarsi a volte dei primariati serve a dare risposte ai primari e non ai pazienti facendo spendere più soldi quindi noi pensiamo che la sanità debba essere ripensata pensiamo che ci voglia un'impostazione differente e che l'attuale assessore non sia la persona più adatta per poter governare un ambito così delicato grazie a tutti grazie a tutti